ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere l'ambo di stasera del 13 12 2018 allora già un periodo buono questo perché sta dando quasi ogni volta ogni strazione degli ambiti dei buoni risultati allora potete vedere qui cagliari 21 70 ho già digitato la precedente che va qui e la futura c'è quella presente adesso l'ho cliccata qui quindi ci sono 12 ambi secchi questo è il programma 5 metri lotto giorno che sono racchiusi praticamente cinque programmi in uno e questo è il programma 12 ambi secchi di gioco allora sui su caldi arrivento nel 70 andiamo a vedere eccolo qui 70 21 questi sono gli ambiti a giocare ragazzi i miei programmi vi lascio il link sotto poi fate voglio io pubblicità la faccio ovviamente non sono gratis perché come dico sempre c'è se uno va al supermercato non è sito come prende la roba se ne va via senza pagare chiaro allora i miei programmi sono validi però chiaramente ci vuole anche fortuna come tutte le cose non sono certi matematici perché sennò io non sarei qui ovviamente allora il 21 e 70 cagliari ambos secco preso comunque qui potete benissimo vedere guardavo anch'io dall'altra parte se accendere a qualcuno in più che tanto li marca lì quindi se c'era vedere se accendere uno doppio no allora guardiamo le quaterne secche allora quaterne secche eccole qua qui anche 21 e 70 perché i calcoli sono simili non sono uguali allora 21 qua non si è accoppiato qua 70 e 21 ambo in quartina qui sono quaterne secche di johnson due quaterne per ruota da giocare quindi qui ambo in quartina sempre valido poi le quaterne di john che sono le quaterne le quaterne da giocare qui vediamo un attimo 70 e 21 qui qui sono 21 guardavo se ce ne erano due come un'altra volta no è buono lo stesso eterni e buono anche qui 21 70 perché 21 70 quello qua perché qui su tre numeri comunque lambo è sempre di una tantina di euro è valido 78 euro mi sembra quindi le altre parti sono uscite le lambate vediamo un po su monster dog anche qui ambo però su sei numeri 21 e 70 e che dire niente qua è buono sono contento vi lascio comunque link sotto di tutti i miei programmi adesso andiamo a controllare il superna lotto perché ho visto di nuovo un 2 come l'altra volta l'altra volta ha dato un 2 no non ecco due cacchio altra volta aveva dato un 2 allora mettiamo la pagina giusta allora digitato la precedente che era 6 17 32 eccetera digitata qui nel programma superna lotto john ho visto si è verificato due numeri 7 il 50 noi due no peccato il 27 no il 12 eccolo qua allora 7 e 12 lo so è un po pochino però è considerato che superna lotto è difficile il mio programma lo dico contro il mio interesse comunque sempre un buon programma però è difficile avere dei risultati quindi quando esce lambo in sestina in sei numeri è buono comunque il risultato sempre positivo anche se poco e qui sopra notto già vi lascio il link sotto di tutti i miei programmi allora devo ancora verificare il 10 all'8 lo faccio insieme a voi perché devo ancora guardare quindi allora innanzitutto terza versione controllo allora qui chiudo va bene lo lascio pure per eccolo qua allora vediamo un attimo digitiamo sto controllo insieme a voi perché devo ancora controllarlo per controllare tutti i programmi proprio non ne ho voglia e controlli principali perché veramente sennò divento matto allora vediamo un po qui questa è quella di stasera ovviamente e allora 11 qui niente 65 niente 59 niente 58 niente vediamo nell'altro vediamo nell'altro 74 74 no 75 no 22 niente 50 sa che non ho fatto una cippa qua no no la vediamo 0 paga eh quindi anche qui 0 serve stato vincento uguale alla fine quando c'è lo 0 a volte io sono sono anche contento perché mi rifaccio dalla giocata non spendo poco quindi allora qui l'ho messa giusta eccolo allora vediamo un po digitiamo anche l'altro programma allora sono 3 10 anche qui 59 49 niente 65 niente 47 no mi sa che facciamo 0 che qui e 25 tutti e tre praticamente sono state vincenti lo stesso perché facendo 0 ti paga comunque due euro su sui dieci numeri sui 6 no sui 6 no cosa dico no 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 sui 6 mi sembra che non ti paga nessuno non lo ricordo sinceramente comunque nulla comunque supera una lotto l'avete visto l'otto l'ambo secolo avete visto vi lascio comunque tutti i link dei programmi sotto al video io non ho fatto nulla al dice l'otto preso tre numeri su dieci quindi non è vincente nella mia che ho giocato a caso però la prossima volta devo giocarmi un misto dei miei programmi devo ancora verificare e niente sono veramente contento comunque perché chi l'ha giocata a Cagliari ha preso e niente ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi sempre di più clicato su like se volete sentite le mie musiche strumentali e soprattutto i miei quadri dipinti perché sono pittore su john art gallery john francossini sia su instagram che su facebook potete trovare tutti i miei dipinti e comunque ci sono anche lì ci sono i link anche qui sulla pagina youtube sia di sotto che di sopra c'è un po di tutto va bene niente ragazzi ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio vi auguro buona serata e presto ci sentiamo ciao a tutti grazie grazie